Eccoci qua, siamo nuovamente in onda, buongiorno, benvenuti, bentornati, buonasera, insomma dipende, non so magari a che ora guarderete, a che ora ci state guardando, anche perché vi ricordiamo sempre sulla nostra piattaforma ondemandradioadice.tv potete vederci sempre, qualsiasi ora del giorno della notte e soprattutto con chi volete. Raga dai, andiamo avanti perché si parla di novità, di curiosità, in questo caso oggi parliamo anche di food, di cibo. Allora, stavo mentre guardavo i social, guardate un po', ho beccato questa pagina meravigliosa, gustosi, poi insomma e ho visto un sacco di news, ma fermo qua perché ho detto adesso li chiamo e loro sono arrivati. Diamo il benvenuto a loro e adesso ci racconteranno, eccoci qua, benvenuti, ciao ragazzi, come state? Ciao, tutto bene? Tutto bene, come va? Bene, bene. Oh, Giorgia, Matteo, Matteo e Giorgia, gustosi, come state? Bene. Bene, raccontatemi un po', allora io proprio sbiscono e ho visto questa pagina oltretutto con un seguito notevole e tantissime realtà, collaborazioni. Raccontatemi un po', intanto come nasce l'idea di gustosi? Allora, intanto grazie della disponibilità e di questo spazio. Niente, gustosi nasce da una passione, quella che ho sempre avuto per il cibo e la passione anche della fotografia. Quindi ho deciso nel lontano 2016 di creare una pagina quando c'erano agli albori, insomma, i foodblog e tutto, come hobby e quindi per fotografare, fare recensioni. Poi col passare degli anni abbiamo deciso di improntarci sul territorio e raccontare delle cose particolari, insomma, del nostro territorio e poi con gli anni appunto grazie alle collaboratrici che ho avuto e che ho adesso, quindi, Giorgia, che è qui di fianco a me, che è l'enologa della nostra pagina. Applausi! E Veronica, invece, che è la ragazza mora, invece lei è un avvocato. Abbiamo deciso di fare questa pagina e di continuare questa mia passione, unire le nostre forze per dedicarci a questa tematica, insomma, del food. Bravi! Tanta roba! Complimenti! Anche perché poi, come tu hai detto, Matteo, 2016 era ancora un po' tutto un po' lontano, il mondo Instagram era, insomma, lì, diciamo, che chi si è iscritto, comunque chi ha pensato lì su Instagram in quegli anni si vedeva già parecchio in là e difatti ci avete visto bene. Allora, tante le curiosità perché allora ho visto un sacco di foto. La prima che hanno detto questa, questa qua a me è rimasta un attimo, ho detto, cosa stava succedendo qua? No, capiamo dove eravate. Allora, lì ero in una macelleria con ristorante, non il contrario. È nata come macelleria e poi hanno aperto un ristorante. E loro vantano di carni veramente preggiate, che provengono dall'Italia ma vengono macellate e poi stagionate lì a Vicenza, ecco. Lo consiglio veramente, poi sono una famiglia veramente speciale. Tante le collaborazioni o te le tuttano perché, insomma, io stavo sbirciando, ripeto, anche qua, ad esempio, guardiamo questa clip qua. Cioè, ecco. Questo è uno shooting che abbiamo fatto in collaborazione con Special Mr. Martini che conosciamo da molti anni e abbiamo fatto uno shooting dedicato appunto con Giorgia che faceva da modella e un mio amico che faceva da fotografo. Ma poi dopo avevi mangiato davvero gli spaghetti? Certo, ho mangiato tutto quello che... Matteo, puoi confermare? Sì, sì, ho mangiato tutto. Ok, no, no, confermiamo. Allora, poi si è parlato molto, no? E quindi vedo che siete preparatissimi. Si è parlato molto nell'ultimo periodo e qua ve la lancio, guardate qua, 3, 2, 1, Ale. Oh, me la spiegate un po'. Sì. Allora, vuoi raccontare tu, racconto io? Racconti tu. Allora, praticamente, nell'ultimo periodo, quello che ha fatto molto Scalpore è stata l'approvazione appunto con l'Unione Europea della possibilità degli insetti edibili. Quindi da lì ci siamo mossi in anticipo collaborando con due aziende, in particolare Small Giants che è un'azienda che produce cracker a base proteica addizionando i prodotti con farina di grillo e poi abbiamo collaborato anche con un'azienda finlandese che invece fa veri e propri insetti edibili quindi sia grilli che buffalo worms speziati e quindi una cosa da provare. Cioè fammi capire, no, fammi capire. Adesso questa foto ad esempio qua all'interno, dov'è? Mi è sfuggita. Qua all'interno quindi ci sono vermi e grilli. Esatto. Che Giorgia ha assaggiato anche. E' un po' scettica, è un po' scettica ma poi devo dire inaspettatamente buoni. Il gusto com'è? Allora il gusto è una base che può assomigliare a quelli che sono gli arachidi come base e poi... Sì, sì, è vero. Molto base o... no, per capire... No, no, buoni, da provare. Sembrano proprio umami, no, le patatine. Cioè è proprio come snack. E non so, c'è un attimo di silenzio. Cosa ne dite regia? Voi assaggerete? Allora, io ho assaggiato, io ho assaggiato, delle patatine, patatine poi nulla di che. Patatine normalissime, c'era scritto all'interno, contiene farina di... Però insomma non ho notato questa grande differenza. Direi che personalmente mi farebbe già un effetto diverso. L'insetto. Questo qua, esatto. Qua parliamo già di un'altra... Anche perché si vede, no? Sì, sì, si vede completamente. E' proprio il secco intero. Beh, un goccio d'acqua, grazie. No, vabbè, comunque andiamo avanti. Sì, bene, allora, no, curioso, quindi ecco, provare per credere, lo dicono sempre. Io ve lo dico, poi fate voi. Detto questo, dicevamo, tante realtà ad esempio, no? Perché anche qui poi insomma si parla di cantine, ecco, proprio anche proprio per questo. Sì, diciamo che da quando c'è Giorgia insomma ha dato una marcia in più sicuramente per la pagina, con i contatti che ha nel mondo del vino e nelle sue competenze che sicuramente sono molto importanti e ci hanno fatto fare un salto di qualità. E' proprio per questo, ad esempio, scorro, vado un attimo indietro e ho visto un'immagine che mi è piaciuta, adesso vediamo se la recuperiamo. Intanto dicevo, quindi parlando di vini, facciamo una parentesi a questa storia che è molto curiosa a quanto pare. Guardiamo qua, dove eravate e cosa stava succedendo? Beh, non mi ricordo come si chiama il paese. Eravamo a Travo. A Travo, lui si chiama Shuminowa. Scusami, non ti ricordi Travo? Eh, ma il suo nome è un personaggio incredibile. Ed è giapponese ed è arrivato in Italia per imparare a fare il vino naturale. Ha avuto dei maestri, tra i quali la Stoppa, la proprietaria di una delle cantine più famose in Italia di vini naturali, la Stoppa. E quello che mi ha colpito di lui è la sua umiltà, il suo rispetto per il territorio e proprio perché è anche un estraneo, cioè in questo senso è uno straniero e quindi lui è proprio a terra, a terra, proprio con le mani in terra. Ha proprio... Ha iniziato a fare i suoi vini e devo dire che sta andando molto bene. Beh, a me piace un sacco quello che state facendo, che avete fatto. Poi insomma adesso abbiamo visto alcuni esempi, poi abbiamo visto esempi anche ancora più pratici, tipo qua ne parlavamo prima, Matteo. Eravamo andati con Giorgia a fare un'uscita a Bovolone dove c'è Pensieri Caviar che è un'azienda. È stato molto interessante scoprire che nel nostro territorio ci fosse un'azienda leader mondiale nella produzione di caviale e sono stati molto gentili, ci hanno aperto le porte e ci hanno mostrato tutta la produzione del caviale. Beh, bellissimo. Poi insomma ecco, io adesso non posso farvi vedere tutto, grazie regia, però andate a switchare, anzi fate come noi in questo momento, lasciate il segui sulla pagina ufficiale, quindi mi raccomando fate così, lasciate il vostro segui per stare in contatto con loro. Detto questo invece www.gustosifood.com, il sito ufficiale, a proposto di questo lo clicchiamo così lo guardiamo un attimo insieme. Questo è un sito che abbiamo creato insieme a un mio amico, che è anche il proprietario di GoGoFresh, che è un'azienda che fa delivery di frutta e verdura su territorio e abbiamo creato questo sito per poter dare spazio alla creatività di Giorgia nella scrittura di articoli dedicati al mondo del food. Se posso spendere una parola? Assolutamente sì. Perché, allora, sono molto contenta infatti di poter scrivere per questo blog perché è uno spazio per me in cui posso veramente sentirmi libera di scrivere, perché attualmente, secondo me, la comunicazione del vino sta diventando un po' troppo standard. E' tutta standardizzata, c'è un linguaggio veramente omologato e quindi, secondo me, anche per gli studi che ho fatto e le esperienze che ho fatto, per esempio una in particolare in Isola di Santelleria, che mi ha segnata particolarmente, per me è importante promuovere un nuovo linguaggio e un nuovo modo di vivere il vino con un approccio innovativo, artistico e a 360 gradi, quindi che può involgarte, musica, qualsiasi cosa, insomma, cibo. Beh, allora, intanto bravi perché non sono cose scontate da tutti i giorni. La musica c'è, raga, ricordatevelo, mi raccomando, bene. Ecco, stavo anche, guardando adesso poco fa, ho visto anche la carissima Stella Aldrighetti, la nostra amica Stella, che insomma, Cantina Vinigamba, tante veramente le amicizie e le collaborazioni, bravi. Detto questo, come fare? Cioè, se qualcuno dice, venite a trovarmi, no? Allora, niente, siamo sempre disposti appunto a collaborazioni, c'è da dire che rispetto ad altre realtà cerchiamo di fare comunque una selezione di qualità, nel senso che non tutti i locali poi accedono alla nostra selezione sulla pagina, comunque chi è interessato e vuole parlare di sé, soprattutto se sono realtà locali, ci contatti su Instagram, insomma, siamo ben disposti a collaborare. Bene, allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, le cose da dire sarebbero ancora tante, ma proprio per questo abbiamo lasciato il like, così siamo in contatto e a questo punto, raga, tornate a trovarci più spesso, parliamone di più, una o due volte al mese, quel che è, magari con una tematica dedicata a vino o cibo, visto insomma che siete dei professionisti, gestite questa pagina bellissima e meravigliosa, questo profilo e siete anche soprattutto dei professionisti, grazie davvero, tornate a trovarli. Grazie a voi. Va bene? Grazie di cuore. E allora grazie, andiamo avanti, avanti ancora con la musica, ma soprattutto cliccate, cercate e lasciate come sempre il vostro like, lo diciamo sempre, è gratis, è gratis, facile no? Pam, pigiato ogni tanto. Dai, andiamo avanti con la musica, nuovo brano che arriva, 3, 2, 1, musica.